Centinaia di piante e fiori dalle varie sfumature di colore, con prevalenza del rosso e del verde, da stamattina ornano i 142 gradini della scala di Santa Maria del Monte, decorati con mattonelle di maiolica. Un motivo floreale dedicato alla Madonna di Conadomini, titolare dell'antichissima chiesa posta in cima alla scala. La scala infiorata diventa così un inno alla Madonna di Conadomini, compatrona della città. Le essenze utilizzate quest'anno sono il geranio, il bosso e il taggete, per un totale di 1100 frappiante e fiori. Per un mese sino al 15 giugno, unico grandioso disegno, un tappeto di fiori, dà vita a uno spettacolo unico nel suo genere, che fa il paio con la famosa scala illuminata di lulli e agosto per la festa del santo patrono San Giacomo, allestita dal personale del servizio parchi e giardini del comune di Caltagirone, la scala infiorata è ormai un appuntamento, una tradizione attesa non solo dai turisti ma anche dagli abitanti. Da piazza Municipio e dalla via Principe Medeo è possibile ammirare l'infiorata nella sua interezza. La scala quindi è motivo di richiamo per i visitatori della città della ceramica. Proprio nelle settimane di maggio si registrano a Caltagirone molte vise di turisti, anche se negli ultimi anni la crisi ha fatto sentire i suoi effetti.